Con la canonizzazione di Francesco e Giacinta ho voluto proporre a tutta la Chiesa il loro esempio di adesione a Cristo e la testimonianza evangelica. E anche ho voluto proporre a tutta la Chiesa di avere cura dei bambini. Così Papa Francesco prima della preghiera del Regina Celi, il giorno dopo aver proclamato Santi e Fatima, i pastorelli che con la cugina Lucia cento anni fa ricevettero il privilegio di poter vedere la Vergine Maria. La santità dei due bambini scomparsi in tenera età, ha spiegato il Pontefice, non è conseguenza delle apparizioni ma della fedeltà e dell'ardore con cui hanno corrisposto al privilegio ricevuto. Infatti, dopo l'incontro con la bella signora, i piccoli recitavano frequentemente il rosario, facevano penitenza e offrivano sacrifici per ottenere la fine della guerra e per le anime più bisognose della divina misericordia. Anche oggi, ha aggiunto il Papa, c'è tanto bisogno di preghiera e di penitenza per implorare la fine di tante guerre che sono dappertutto nel mondo e che si allargano di più, come pure la fine degli assurdi conflitti anche familiari. Del suo viaggio a Fatima, Francesco ha sottolineato la sua immersione nella preghiera del santo popolo fedele, che là scorre da cento anni come un fiume, per implorare la protezione materna di Maria sul mondo intero. Al centro del suo pellegrinaggio di speranza e pace è stato il Signore Risorto, presente in mezzo al popolo e ai tanti malati. Al termine, dopo la preghiera mariana, ha ricordato la festa della mamma che si celebra in tanti paesi, chiedendo alle istituzioni un'attenzione concreta alla vita e alla maternità. Quindi ha chiesto di pregare in silenzio per la propria mamma, affidandola a Gesù.